Salve a tutti, siamo, anzi sono in ritardo sulla tabella di marcia perché di solito lunedì prometto il video ma causa impegni e ci sono sempre questi impegni, mi dispiace, mi dispiace veramente ma difficilmente riesco a registrare comunque sono qua, spero di rimediare oggi il libro quiz si chiude oggi con il libro quiz vecchio, si chiude con una soluzione che vedo adesso che è Quello che ti meriti di Ann Holt e questo è il libro quiz della settimana scorsa chiudiamo e riapriamo il libro quiz si apre oggi con questa recensione di questo libro non si può non sottolineare l'essere molto avvincente un giallo che ti porta a seguire l'evolversi degli eventi naturalmente quasi senza accorgersene il mistero si scioglie pagina dopo pagina mentre un numero e una maledizione molto terrena quasi per nulla ultraterrena pur credendola tale fanno bella mostra nella città un team di investigatori si passa la palla delle indagini equamente senza mania di protagonismo quasi l'impellenza sia debellare un mistero dove nessuno è colpevole pur scappandoci la serie di morti largo alle vostre soluzioni spero vi divertirete con questo piccolo giochino che faccio se non vi piace magari un commento cosa vi piacerebbe migliorare e con questo vi saluto e vi ringrazio ciao 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 ciao